Ha scippato due donne nel giro di pochi giorni, ma per sua sfortuna le scene sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali. È successo a Foggia, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato su ordine del GIP il 48enne Raffaele Epipoli, volto noto alle forze dell'ordine con numerosi precedenti penali. L'uomo è accusato di aver rapinato due donne nelle scorse settimane. Il primo colpo risale al 3 settembre in via Pepe, il secondo 17 giorni dopo in via San Domenico. Due scippi messi a segno, come dimostrano le immagini delle telecamere dei negozi, con le stesse modalità. Dopo aver individuato la vittima, Pipoli l'ha avvicinata strappandole la catenina d'oro. Il bandito è poi fuggito in sella a uno scooter. Nel primo episodio la vittima è stata un'anziana. In questo caso gli investigatori sono alla ricerca di un complice, di Pipoli. Sabato scorso invece i poliziotti hanno denunciato un 31enne del capologo Dauno con l'accusa di ricettazione. Durante alcuni controlli nella sua abitazione gli agenti hanno trovato 100 piumini di note marche, oltre a magliette, camice, polo e altro abbigliamento, per un valore di oltre 20.000 euro. La merce, hanno accertato gli investigatori, era stata rubata la notte tra il 3 e il 4 ottobre in un noto negozio di abbigliamento a Torre Maggiore.